buonasera a tutti dopo una pausa dovuta a varie cose una pausa di circa un mesetto un mesetto e mezzo riprendiamo oggi i nostri incontri di filosofia oggi è giovedì 30 maggio del 2024 e in particolare vedremo un attimo un progetto diciamo di uno studio di filosofia della storia che ho messo su un po in questi ultimi queste ultime settimane sintetizzando le riflessioni dei dei mesi anche forse anche degli anni precedenti allora condivido a questo punto il lo schermo si vede lucia alfonso si perfetto voi avete comunque anche il testo allora anzitutto geofilosofia del mondo concetto di geofilosofia non è molto usato mi sembra che cacciare una volta scritto una volta un testo con questo termine però non è proprio diciamo di uso frequente si parla di geopolitica no da alcuni anni come sappiamo che cos'è la geofilosofia che cosa intendo per geofilosofia del mondo la geofilosofia del mondo in sostanza è un modo per inquadrare in modo sintetico quindi sinteticamente le varie culture in cui è divisa l'umanità e culture che sono ovviamente poi le varie forme politiche le varie forme economiche eccetera le varie civiltà quindi la geofilosofia il termine filosofia va ovviamente interpretato non in senso diciamo strettamente accademico ma nel senso come cultura quindi la filosofia di una civiltà cioè i principi valori fondamentali di quella civiltà ecco che possono essere anche ovviamente religiosi ma anche la religione di quella civiltà se vogliamo interpretandola in senso lato come direbbe che è una filosofia o la filosofia è una religione l'abbiamo detto tante volte no quindi geofilosofia del mondo nel senso di un quadro sintetico attuale che chiaramente il risultato della storia non viene da nulla quindi però diciamo è la situazione al momento attuale di quelle che sono le varie visioni del mondo ecco ovviamente con l'idea di cercare un minimo comune denominatore è ovvio c'è la geofilosofia del mondo deve poi avere come scopo quello di poter una volta individuate le differenze anche individuare qualcosa in comune punti in comune che è la cosa più importante e le differenze lo sappiamo che ci sono allora anzitutto quindi nella preparazione scriverò questo che cosa si intende per per geofilosofia del mondo ecco magari scriviamo qua prefazione concetto di geofilosofia ora la prima il primo passo da fare da compiere è quello è individuare i lineamenti generali della storia e dello sviluppo dell'umanità perché abbiamo detto che la geofilosofia del mondo attuale ovviamente è il risultato di un percorso storico ora la prima cosa è capire e chiarire quali sono i fattori fondamentali della storia cioè quali sono i fattori che nella storia sostituiscono il motore del cambiamento allora qua chiaramente da un punto di vista idealistico dialettico quindi il rapporto fra lo spirito assoluto e lo spirito oggettivo lo spirito oggettivo è il mondo della storia che esiste oggettivamente e lo spirito assoluto che cos'è è l'essere umano che diventa cosciente in sé della presenza di chiamiamolo dell'assoluto no poi la religione lo chiamerà dio che sarà dio cristiano il dio musulmano eccetera eccetera avrà varie risposte la materia per un ateo no la materia è l'assoluto per un ateo non è importante cosa quale sia la risposta l'importante che ogni cultura nella storia dà una risposta e su a questa domanda sul no che cosa che cosa è questo qualcosa di superiore che a noi esseri umani di cui avvertiamo la presenza di cui almeno ci poniamo la domanda no da dove deriva il mondo qual è il principio primo del mondo e sulla base di questa risposta che può essere una risposta religiosa o una risposta filosofica abbiamo poi la costituzione del mondo della società dei valori è ovvio che una società materialistica atea avrà dei valori diversi da una società religiosa questo è ovvio è chiaro per fare due esempi contrastanti ma anche una società atea liberale avrà valori diversi di rispetto a una società atea comunista cioè la risposta che si dà alla questione dell'assoluto del principio primo della vita e condiziona anzi determina più forte di condizionare determina quella che poi l'organizzazione della società e qui è chiaramente un'impostazione idealistica perché quindi per un marxista invece è il contrario che l'organizzazione dell'economia il potere economico poi come oppio da vita alle religioni eccetera ma questa è una concezione che a mio avviso è insostenibile lo spiegherò naturalmente in questo paragrafo in questo capitolo perché lo stesso comunismo è l'esempio migliore di come un'idea di come un'idea abbia creato una società in russia in cui gli operai non c'erano c'erano i contadini per cui marx giustamente pensava che la prima rivoluzione comunista ci sarebbe stata in gran bretagna perché lui diceva lì c'è la coscienza di classe degli operai invece praticamente ci fu in russia dove era ancora una società contadina quindi paradossalmente proprio lo sviluppo del comunismo storico è la prima rivoluzione comunista è un esempio di come le idee le idee le idee muovano la storia per cui praticamente attecchiscono lì dove magari uno non se lo aspetterebbe neanche certo ci saranno motivi ma non è questo il punto quali sono i motivi il punto che quando queste idee attecchiscono poi muovono la storia con forza e creano le civiltà allora quindi la religione e la filosofia quindi lo spirito assoluto diciamo le idee il mondo delle idee il mondo dei valori è quello che determina la storia e la politica quindi se noi vogliamo capire la geofilosofia del mondo attuale dobbiamo ricostruire la storia della religione e della filosofia perché se noi non ricostruiamo la storia della religione e la storia della filosofia non capiamo il mondo di oggi facciamo un esempio i conflitti attuali i due conflitti attuali principali dei tanti che ce ne sono più piccoli il conflitto in palestina è chiaramente un conflitto di due visioni religiose perché se avessero la stessa religione non ci sarebbero problemi ci sarebbero già trovata la soluzione di due stati da una oa magari avrebbero vissuto tutti usate in uno stesso stato quindi e la problematica in ucraina nonostante la russia non sia più uno stato comunista non di meno è chiaro che deriva deriva dalla dalla dal fatto che queste ex repubbliche sovietiche si sono liberate dal dal tiranno diciamo comunista e guardano alla russia attualmente con odio e quindi è con terrore che possa accadere un'altra volta anche se la russa è cambiata negli ultimi venti anni da 25 anni da gropascio fin poi però è è ancora si risente risente quella situazione per non parlare del conflitto poi tra usa e cina che prima o poi no esploderà quando ci sarà la questione di taiwan che quindi diciamo così allora in sostanza quindi dobbiamo ricostruire la storia religioso filosofica dell'umanità ovviamente nelle sue grandi grandi linee per capire dove siamo oggi e qui io riprendo sicuramente Hegel un frammento che abbiamo già letto diverse volte ne parlo anche Malin ma proprio all'inizio dei nostri incontri del periodo di Iena in cui Hegel anche se non lo esprime nei termini in cui lo pongo io ma fondamentalmente distingue queste tre epoche della storia religiosa dell'umanità il politeismo quindi la pluralità di dei poi il monoteismo nelle sue varie diciamo così nelle sue varie formulazioni e qui Hegel prende chiaramente soprattutto in considerazione il cristianesimo e parla appunto dell'ascissione del cristianesimo in cattolicesimo e protestantesimo dice anche se il protestantesimo comunque è riuscito a cogliere diciamo l'assoluto in una forma quasi pura resta però sempre questo dio esterno e sarà tolto dalla filosofia chiaramente lui già si riferisce alla propria filosofia all'idealismo ma quando Hegel parla di idealismo in genere lui intende non una corrente filosofica ma intende in generale la filosofia cioè per Hegel l'idealismo e la filosofia coincidono non l'abbiamo detto abbiamo letto anche quel passo dalla logica quindi fondamentalmente noi abbiamo l'epoca del politeismo in cui gli esseri umani vedono il principio primo del mondo dell'essere in una pluralità di dei terreni quindi che vivono sulla terra anche se hanno una dimensione diciamo così superiore a quell'umana però poi alla fine vi ricordate vivono quasi hanno storie umane di umano poi c'è un superamento quindi c'è una un salto di qualità perché col monoteismo si passa dalla molteplicità della divinità all'unicità della non unità e questa è un'operazione importante in cui praticamente viene isolata da questa pluralità di dei la divinità in sé la divinità in sé che poi diventa il creatore del mondo che è diverso e distinto dal mondo e abbiamo il monoteismo quindi dio nelle sue varie forme ma alla fine dice Hegel il passo superiore logico è interpretare questa unica divinità nella sua forma pura che è il logos il logos quindi la filosofia diventa la terza forma di religione il terzo stadio religioso dell'umanità certo convivevano hanno convissuto e convivano ancora la filosofia e la religione e il monoteismo ma anche il monoteismo e il politeismo hanno convissuto per tanti secoli e forse ci sono ancora oggi piccole società ancora politeiste no magari piccole tribù politeiste cioè non è che ci sia uno stadio finisce tutto scompare ogni forma politeista e incomincia quella al contrario tanto si dice che per esempio tutta la tradizione dei santi nella tradizione cattolica eccetera i riti viene viene dal politeismo fondamentalmente romano no quindi c'è un convivere un convivere che però pian piano pian piano elimina sempre di più lo stadio precedente no e e produce invece pian piano il nuovo stadio no per cui si è parlato a proposito di Hegel di una morte della religione no una morte della vita cioè prima o poi prima o poi come oggi potremmo dire morte della religione nel senso di morte del monoteismo morte del monoteismo nel senso che prima o poi praticamente non ci sarà più il monoteismo e ci sarà solo la filosofia come come il monoteismo ha praticamente ormai quasi del tutto eliminato il politeismo nel sistema hegeliano poi invece da una versione un po diversa non tanto diacronica cioè quindi come tre fasi proprio una dopo l'altra ma più sincronica dello spirito assoluto per cui sembrerebbero convivere il politeismo come arte perché diciamo le religioni politeistiche si sono espresse soprattutto in forme artistiche no quindi hanno raffigurato l'assoluto in forme attraverso l'arte quindi la religione la fede il monoteismo sarebbe la religione e l'idealismo la filosofia invece in questo frammento di Iena in questo testo di Iena e secondo me la sua vera idea di Hegel era questa solo che all'epoca non la poteva dire perché dimentichiamoci che Hegel viveva in una società fortemente cristiana protestante ed era il professore è il rettore dell'università quindi diciamo la persona principale dell'università di uno stato teocratico una monarchia teocratica quindi non avrebbe mai potuto presentare una visione di questo tipo mi sembra ovvio ma forse lui stesso aveva dubbio non lo so soltanto che il senso della sua filosofia come nasce a Iena in quel testo che per fortuna Rosencrantz il suo primo biografo ci ha trasmesso altrimenti sarebbe stato distrutto insieme ad altri testi di Hegel la moglie e il figlio no alla cui ha morto Hegel alcuni testi quelli un po più problematici li distrussero e questo probabilmente l'hanno distrutto questo testo invece Rosencrantz lo ha potuto visionare e lo ha riportato nella sua biografia ma ampi 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 brani ampi prezzi di questo testo per cui si può ricostruire bene il pensiero di Hegel scrive chiaramente lui pensava che dall'unificazione di protestantesimo e cattolicesimo la sintesi dialettica no sarebbe venuta fuori no una nuova religione che però è la filosofia cioè lui secondo me vedeva la propria filosofia come l'unificazione del cristianesimo lui così ha interpretato il proprio pensiero filosofico dove però il logo dio veniva espresso come logos come logos quindi era a questo punto una nuova religione ora posta questa premessa ci dobbiamo porre la domanda in quale fase siamo noi oggi certo non siamo nella fase del politeismo nonostante ci siano sicuramente alcune tribune la fase del monoteismo direi che con l'illuminismo l'abbiamo no abbiamo iniziato a lasciarla alle spalle anche se ci sono tante culture tante civiltà ci mancherebbe ancora religiose però diciamo che noi guardiamo a quelle civiltà religiose come no qualcosa che è un po legata al passato e nel senso che da un punto di vista illuministico sono superate direbbe kant non possono essere assolte dal tribunale della ragione noi ci troviamo nella civiltà dell'idealismo cioè nella civiltà in cui i valori che reggono la società sono valori razionali no i diritti umani per esempio e così via no tutto quel che noi chiamiamo democrazia o ma 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 anche se vogliamo lo stesso comunismo è una forma di idealismo non sono valori puramente ideali la giustizia l'uguaglianza come quindi anche la società l'idealismo o nel senso di filosofia è una forma di civiltà che contiene al proprio interno sia il liberalismo diciamo così il liberalismo quindi angolo americano soprattutto occidentale perché ci siamo anche noi sia il comunismo no quindi sono forme di civiltà sistemi di valori venuti fuori dall'illuminismo potremmo dire no dalla critica illuministica della religione in modi diversi ora però quel che noi potremmo dire e questo è il punto fondamentale del ragionamento è che il liberalismo e il comunismo che sono le forme principali attuali dell'idealismo no cioè no nella geofilosofia del mondo le civiltà filosofiche sono la civiltà occidentale liberale e la civiltà diciamo cinese e quelle e non so cubana ma comunque diciamo la civiltà cinese come punto di riferimento comunista sono da un punto di vista di riflessione filosofiche ideologie cioè sono sì concezioni che si basano sulla ragione e quindi concezioni filosofiche sono però concezioni che si basano sulla ragione ma non fondate in sé non fondate in modo ultimo non prive di contraddizione cioè sono potremmo dire contengono una verità ma una verità parziale quindi non sono sbagliate attenzione ma neanche le religioni sono sbagliate neanche le forme del mononismo sono sbagliate neanche il politeismo era sbagliato cioè nella storia l'uomo ha avuto bisogno di per forza di cose di farsi un'idea del mondo ma dove sono andato a finire dove sono capitato che cos'è questo no che cos'è la terra che cos'è il sole che cos'è la luna che cos'è l'universo che cos'è l'essere cioè l'uomo ha avuto bisogno di dare una risposta a queste domande e sulla base di queste domande ha avuto bisogno ha avuto bisogno di dare una risposta alla domanda etica qual è il senso della vita se c'è un senso nella vita come devo comportare che ne devo fare della mia vita eccetera perché non mi basta solo mangiare bere no diciamo più c'è benessere e più gli uomini diciamo hanno bisogno di avere un senso spirituale della vita quindi inevitabilmente gli esseri umani si sono posti queste domande e hanno dato le risposte che potevano dare a seconda dello sviluppo no della della conoscenza della coscienza direbbe che è chiaro che l'idealismo non poteva venire all'inizio il punto di vista le risposte filosofiche non potevano venire all'inizio o potevano venire all'inizio soltanto per pochissimi no in grecia per pochi ma la maggior parte dell'umanità non sapeva né leggere né scrivere no però aveva ugualmente bisogno di risposte e qui la mitologia no il politeismo eccetera ora quindi noi siamo nella situazione in cui praticamente nella civiltà ormai idealista nella civiltà che risolve i propri che risponde a quelle domande sul senso e sull'essere in modo razionale è vero in generale nel senso che chiaro poi ci sono le culture che parlano di dio e danno una risposta diciamo di tipo religioso però a livello di discussione globale i diritti umani eccetera valgono diciamo i ragionamenti teorici ragionamenti laici filosofici come ho definito queste sono al momento distinte appunto in una visione liberale e una visione comunista ora la visione liberale si sintetizzandola brevemente che si rifà la filosofia inglese all'imperismo inglese del settecento fondamentalmente si basa sull'individuo cioè in sostanza non riconosce un principio primo della vita un dio un logos un valore un principio supremo che è inconoscibile o che se c'è è inconoscibile e non sappiamo neanche se ci siano quindi non non è oggetto di conoscenza non è oggetto di oggetto di conoscenza è solo l'empirico per questo la filosofia dell'imperismo ciò di cui facciamo esperienza ma dato che non facciamo esperienza del principio primo del mondo ma facciamo esperienza abbiamo esperienza solo delle manifestazioni del mondo quindi io posso conoscere gli alberi posso conoscere gli animali le parti del mondo ecco le scienze natural le scienze che si sviluppano le scienze singole ma non posso conoscere quel che sta se c'è qualcosa al di là che ha prodotto tutto questo il metatta fisica l'ambito metafisico no scusate è escluso dalla conoscenza e allora finisce questa concezione del mondo empirista per dar vita a una visione scettica relativista nel senso che non essendoci un principio primo diciamo dal quale regolarsi che quindi poi dal quale possono derivare dei valori assoluti gli unici valori assoluti sono legali a quella che è la felicità dell'individuo quel che sappiamo è che esiste l'individuo umano empirico con il suo desiderio di felicità non meglio definita no perché poi dipende da essere umano essere umano e non è lo scopo della società è quello quindi di garantire questa felicità chiamiamola così non meglio definita dell'essere umano quindi l'individuo è il centro di tutto l'individualismo l'individualismo lo stato è un'entità superiore che fondamentalmente deve entrare meno deve influire il meno possibile se su questo sull'individuo se non appunto in modo positivo creando le condizioni della felicità dell'individuo ma non prescrivendo dei comportamenti non perché si dovrebbe basare su dei valori che non ci sono su dei valori assoluti che non ci sono quindi l'individuo è non la società il comunismo al contrario come poi è stato sviluppato da marx dall'ottocento in poi e poi si è realizzato prima in unione sovietica poi in cina e così via il comunismo al contrario ritiene che ci sia che ci sia che la materia sia il principio di tutto la materia sia il fondamento di tutto e come tale in questo senso la materia è conoscibile e la materia addirittura per il comunismo è a uno sviluppo dialettico perché il comunismo deriva da heger quindi applicano la dialettica di heger alla materia per cui la materia ha un proprio sviluppo dialettico e questo sviluppo dialettico materiale non è solo della natura ma anche della storia della società quindi la società si sviluppa ugualmente in modo dialettico come la natura e lo sviluppo dialettico della società è soprattutto uno sviluppo materiale delle forze materiali cioè dell'economia quindi la classe che prende il potere quindi una classe prende il potere che possono essere i proprietari terrieri o i proprietari delle industrie o forse oggi magari la grande finanza no quindi una classe prende il potere e poi imposta la società imposta la società ovviamente a proprio uso e consumo quindi no una società nella quale che corrisponde al proprio potere e non non possa inficiare andare contro questo potere ora quindi il comunismo avendo questa interpretazione della storia che cosa ha come diciamo principio primo non l'individualismo ma diciamo ma la perché l'individualismo apporta proprio secondo il comunismo a questa costituzione di gruppi di potere perché l'individualismo poi che cosa fa ovviamente ci sono individui che sia per bravura sia per fortuna però o perché sono più audaci o perché sono più aggressivi acquistano potere economico e comandano sugli altri per il comunismo praticamente allora occorre creare una società nella quale a questi individui che si sono arricchiti che hanno sfruttato attraverso il potere economico e quello politico hanno sfruttato gli altri esseri umani va tolto il potere economico quindi il potere per la proprietà per la proprietà economica la terra la fabbrica eccetera va tolta e va resa di pubblica quindi in questo modo fondamentalmente la società diventa un valore supremo la società diventa un valore dove però per società qui non si intende tutta la società ma si intende il proletariato cioè mentre il liberalismo alla fine pur parlando dell'individuo in generale quindi pur mettendo al centro l'individuo in generale però alla fine ovviamente è chiaro che una società individualista ci sarà saranno premiati i più bravi i più i più bravi ma anche più arditi i più aggressivi eccetera eccetera i quali ovviamente a scapito degli altri acquisteranno potere accumuleranno potere e diventeranno sempre più ricchi e diventeranno sempre più potenti nel comunismo al contrario la classe che viene per così dire favorita è quella di di quelli che hanno perso quindi di quelli che nella lotta per la vita hanno perso e quindi il proletariato nessuna delle due teorie è in grado di comprendere l'unità della società perché la società è composta sia da persone diciamo individuali in grado di svolgere attività produttiva creativa accumulativa di capitale e accumulatrice di capitale eccetera sia di persone diciamo più semplici che lavorano per altri che lavorano per altro che lavorano per lo stato che lavorano quindi diciamo così il fatto queste due concezioni e quindi questi due modelli di vita che hanno dato che hanno dato luogo poi a due civiltà diverse pur essendo entrambi venuti fuori dalla dalla filosofia Alfonso subito ti do la parola dalla filosofia quindi pur appartenendo entrambi a questa terza fase cioè noi siamo nella terza fase c'è poco da fare no se non a questa terza fase le le civiltà religiose appartengono ormai a una fase superata della storia questo bisogna dirlo noi siamo nella terza fase però siamo per così dire all'inizio della terza fase cioè siamo all'inizio della terza fase in cui ancora non è non siamo riusciti a cogliere il vero principio filosofico che debba reggere la società della terza fase no è come è come è come anche la stessa monoteismo ha una dinamica interna c'è il giudaismo c'è il cristianesimo c'è l'islamismo no senza voler ora fare una una valutazione delle varie religioni nel caso dell'idealismo c'è una dinamica interna c'è il liberalismo c'è il comunismo e potrebbe esserci che poi sarà la mia proposta filosofica una terza forma di società allora vediamo un attimo cosa dice scusa devo bere un po perché faccio pure qualche colpa di tuo faccio qualche colpetto di due un attimo un minutino di pausa solo d'accordo un minutino volevo dire che era un errore che si si ora lo collegiamo un minutino di pausa solo sì 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 va bene tranquillo eccomi qua era un attimo soltanto un colpetto di sosse ho fatto tutto a posto alfonso vuoi dire qualcosa no no ti volevo dire è stato un errore ho toccato qualcosa al cellulare ma non ti preoccupa tutto chiaro ah non ci avevi una domanda era stato sì sì va bene no no tutto chiaro è stato no no ma vi va bene se facciamo una piccola no allora la faccio io eh sì no se facciamo una piccola pausa perché ho parlato tanto quindi non mi sembra il caso di andare ancora avanti sentiamo le vostre obiezioni allora tu dici che adesso siamo nella fase del idealismo allora intanto a chi ti riferisci a noi dell'europa dell'italia la civiltà occidentale allora civiltà occidentale sicuramente la civiltà comunista c'è cina cuba sicuramente direi probabilmente anche ma bisognerebbe approfondire il mondo dell'america latina no dell'america latina sicuramente anche la russia chiaramente perché è venuta fuori dalla ma non è che è tornata alla religione quindi c'è queste civiltà che hanno superato lo stadio di uno stato teocratico per esempio non so israele direi io non ne conosco non conosco molto quindi non posso pronunciarmi però mi sembrerebbe ancora uno stato molto legato alla religione quando argomentano se ma è dio che lo vuole quindi poi bisognerebbe approfondire può anche essere un errore questo perché non conosco però da quel che leggo no da quel che si legge c'è c'è questa giustificazione religiosa chiaramente il mondo musulmano lì è chiara la situazione la situazione la situazione quindi tu intendi quando si incontra una civiltà che ancora giustifica dei comportamenti con argomentazioni di carattere religioso cioè quando è in nome di dio esatto quando la politica l'etica la società è si basa su motivazioni religiose quindi religiose in senso proprio teologico teologico dogmatico dogmatico certo poi il concetto dogmatico potrebbe anche essere un po più più generale no perché muro potrebbe dire anche il comunismo è dogmatico però diciamo così dove il principio primo è una divinità c'è qualcosa di esterno all'uomo dal quale l'uomo dipende e che detta le leggi all'uomo d'accordo mentre nel caso delle società filosofiche o idealistiche usiamo questi termini così chiaramente il comunismo non è una società idealistica in senso stretto anzi sono contro l'idea del materiale però diciamo idealistica nel senso che si basa su idee su idee su pensieri no la materia che cos'è un pensiero ovviamente la materia la materia è il concetto della natura no la natura è la base di tutto la materia è la base di tutto per il liberalismo l'individuo è la base di tutto l'individuo l'individuo che cos'è l'individuo è un'idea un concetto non è un dio invece il dio è una rappresentazione religiosa legato a una rivelazione storica con dei testi sui quali c'è scritto quello che bisogna fare quello che non bisogna fare e tutto questo è una prescrizione per l'uomo che quindi limita la propria libertà la propria scelta invece nelle società filosofiche questa limitazione non c'è se non dalla ragione c'è dal ragionamento dell'uomo che i limiti che si pone se li pone perché se li pone lui sulla base di ragionamento suo ma non vengono da una rivelazione esterna questa è la differenza fondamentale quindi per questo io accomuno secondo me nella geofilosofia del mondo vanno distinte le società ormai filosofiche le quali poi si distinguono al interno chiaramente no in varie forme dalle società ancora teocratiche se i palestinesi avranno un proprio stato sarà però uno stato teocratico questo che sia ben chiaro non sarà uno stato libero democratico come lo intendiamo noi oggi filosofico perché la loro cultura è quella che fatto nella nostra eh tradizione cattolica chiamiamola nel nostro costume nel nostro modo di vedere perché tanto noi abbiamo il papa in casa per cui ci condiziona chi crede cioè il credente ha comunque un comportamento un modello di vita che segue perché dettato da dio cioè il credente e sono tanti in italia ha ancora un modello religioso un modello cioè la bibbia il testo sacro i dieci comandamenti la la frequenza della chiesa ci sono delle delle regole dei precetti dei comportamenti che vengono condizionati da questi principi religiosi allora questo comunque è una forma leggera la possiamo considerare come un un atto di fede non è che va a condizionare un comportamento da un da un punto di vista che so etico o legale o morale è semplicemente un seguire il proprio credo ma non è così in contrasto con quello della della comunità quindi questo non è da considerare come è una forma privata che però può entrare in contrasto quando ci sono situazioni come per esempio l'aborto abbiamo sentito l'aborto l'aborto la contraccettione ma soprattutto l'aborto no per esempio l'eutanasia quando ci sono questi temi che sono temi naturalmente centrali da un punto di vista religioso allora non so i medici no i medici l'obiettori di coscienza allora si creano delle situazioni dove poi sappiamo benissimo no si discute un medico può fare l'obiettori di coscienza se lui è un impiegato dello stato e lo stato è uno stato laico non è uno stato normalmente dovrebbe no è come non è che cioè non è che uno può dire non vada a insegnare non è che un professore di filosofia o il professore di storia dice no io non faccio la lezione su hitler perché sono contro il nazismo cioè si creano queste questi problemi di coscienza che lo stato risolve ovviamente in modo da trovare un compromesso per tutti considerato appunto che in italia c'è chiaramente una forte presenza di cattolici però di per sé lo stato è laico di per sé lo stato è filosofico di per sé lo stato è la mia domanda perché siccome ci sono questi queste componenti e lo stato è ufficialmente laico anche se ci sono queste cioè tu individui quando c'è l'ufficialità ufficialmente l'italia è uno stato laico quindi anche se ci sono molti italiani che hanno una fede che li porta a entrare in collisione in contraddizione è un problema privato non più di stato è un problema privato che si risolve con compromessi in quei casi di conflitto tipo per esempio l'obiezione di coscienza tipo l'aborto ora c'è stata una discussione no che il governo voleva la presenza se non sbaglio nel caso di donne quando la donna decide di abortire che sia presente una 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 persona dei del provita se non sbaglio non vorrei sbagliare comunque che appartengono a queste associazioni per la vita no per cercare di per cercare di in qualche modo di far riflettere ulteriormente la donna no che vuole abortire quindi ora c'è perché questo stato attualmente il governo è diciamo più orientato verso la difesa di valori diciamo così religioso cattolici però lo stato di per sé è uno stato che non è più non è uno stato cattolico non è uno stato religioso diciamo che c'è una fase della storia da un punto di vista ora di interpretazione generale in cui il nuovo non può non convivere con il vecchio il che non significa che il vecchio sia sbagliato perché il vecchio può portare in sé anche delle cose buone che di cui il nuovo deve diciamo trarre no farne tesoro però è chiaro che non è questo detto non è che con la rivoluzione francese finisce il mondo diciamo medievale finisce il mondo precedente inizia il mondo nuovo no diciamo che la nuova idea chiaramente quella forte trainante quella che poi fa la storia la ma prima che la nuova idea riesca a creare tutto a essere ma diciamo diventare veramente dominante nella società eccetera ce ne vuole di tempo sono passati 250 anni e ancora comunque siamo giustamente siamo con queste situazioni di confronto con la religione ma è giusto che sia così anche perché ripeto e questo è poi il punto fondamentale di tutto il mio studio perché quel che si è affermato dopo la fase del monoteismo diciamo dopo la rivoluzione francese dopo l'illuminio non è stata la vera e propria filosofia dell'idealismo cioè direbbe che l'idealismo che è capace di fondare se stesso scientifico la scienza ma si sono affermate due forme di idealismo di filosofia ideologiche cioè legate a un potere economico il potere del capitale o il potere del non capitale diciamo del proletariato ma sempre comunque sono due parti due diciamo così due sezioni della società non la società vero sarebbe super partes e certo infatti il punto successivo magari ora ci passiamo infatti se noi invece ora prendiamo la filosofia ma non solo di Hegel anche di Kant la filosofia diciamo dell'idealismo nel senso che in quel periodo stiamo sempre negli stessi anni perché stiamo parlando degli anni dell'illuminismo stiamo parlando della fine del settecento dell'inizio dell'ottocento quindi non stiamo parlando diciamo diciamo che tra il 1780 e Marx pubblica il manifesto del partito comunista nel 1848 in quei sessanta settanta anni lì si è avuto praticamente la genesi di queste teorie tutte il liberalismo già esisteva però ha avuto nel 1776 con il famoso libro di Adam Smith sulla ricchezza delle nazioni la sua la sua propria fondazione dell'economia del capitalismo è giunto diciamo il liberalismo è giunto alla fine del settecento diciamo al suo punto apicale al suo apice contemporaneamente Kant ha dato avvio all'idealismo tedesco e Marx partendo dall'idealismo tedesco ha sviluppato il materialismo dialettico quindi nella prima metà dell'ottocento che ha dato vita al comunismo quindi stiamo parlando alla fine di 50 60 anni di storia c'è proprio quei 50 60 anni che costituiscono il passaggio epocale da qui a qui per questo poi ci sono delle epoche si dice ma com'è che ci sono delle epoche in cui tutto esplode perché sono passaggi epocali sono passaggi epocali ora quindi rispetto al liberalismo che punta tutto sull'individuo e non crede che ci siano valori superiori alla felicità del singolo individuo il comunismo che ritiene che questo valore superiore sia quello diciamo della proprietà pubblica e quindi del sostegno al proletariato c'è poi il vero e proprio idealismo quello di Kant e poi da Kant a Hegel soprattutto che invece ritiene che ci sia un logos come abbiamo detto tante volte quindi non lo devo ripetere un principio prima superiore che nel che si presenta come creatività come vita crea come creatività presente in tutto il mondo che poi ovviamente nell'essere umano perviene alla autocoscienza allora a questo punto non è più importante la felicità dell'individuo intesa poi che significa la felicità no la felicità tutti quanti oggi rincorrono la felicità nel senso di benessere materiale no ma non è che tu rincorri benessere materiale e sei felice al contrario se corri il rischio di essere infelice ai 5 vuoi 10 e 10 vuoi 20 ai 20 vuoi 40 e alla fine non lo sappiamo benissimo i nostri giovani no quindi i quali sono le vittime quasi per così dire più facili che più facilmente cadono in questa spirale della falsa felicità la felicità consiste quindi in questa vita creativa in questa creatività la quale può essere sia creatività diciamo produttiva imprenditoriale no del capitale non finalizzata al profitto però perché altrimenti torneremo un'altra volta nel problema della felicità no della falsa felicità quindi l'imprenditore che produce per il piacere di produrre perché contento di fare qualcosa di di mettere al mondo qualcosa di nuovo no di generare diciamo no produce i bicchieri perché sono una bella forma gli piacciono un bel materiale rendono più saporito il vino che si beve o che ne so io questi bicchieri piacciono lui li vende chiaramente guadagna le giusto così così perché un lavoro però praticamente la sua attività produttrice creatrice è come tale non è male non è un qualcosa di che debba essere no tolto non deve essere fatto per lo stato no lui la fa per se stesso la fa per se stesso però il fine per cui lo fa è quello di dare un contributo alla società quindi la creatività quindi lo fa perché è bello gli piace essere imprenditore ma non è che faccia l'imprenditore schiavizzando gli altri o imbrogliando cioè in modo pulito etico l'etica imprenditoriale ci esiste oggi non si ne parla dell'etica però mantenendo questa etica può anche guadagnare certo perché diciamo così è un risultato non è il fine no è un risultato non è il fine diciamo che un docente fa lezione e che ne so come galimberti che c'ha migliaia di visualizzazioni o barbero magari non lo so se ognuno pagasse un euro per ogni volta che loro mettono su youtube un un video diventerebbero ricchi per dire una cosa scherzando nel senso che tu fai una cosa produce una cosa che può essere una lezione può essere un bene materiale quello che sia hai successo e quindi la gente lo acquista e quale c'è il problema che tu diciamo poi guadagni e ti puoi permettere non solo ti puoi permettere un'abitazione ma ti puoi permettere una villa con la piscina ma qual è il problema diciamo non è questo il problema dall'altra parte il proletariato giustamente questa concezione della creatività unifica perché anche il lavoratore ha diritto a un lavoro di tipo creativo quindi diciamo il lavoratore ha diritto non ad essere schiavizzato non ad essere sottoposto a un lavoro di routine repetitivo oggi ancora così però sono nella nostra società tanti diritti sono sono diciamo garantiti ai lavoratori però probabilmente in una società futura soprattutto attraverso il progresso della tecnologia sarà possibile per tante persone per tanti lavoratori svolgere attività più gratificanti quindi più di carattere creativi creativo che non meccanico quindi quel che voglio dire è che il principio della creatività il principio del logos creatore un principio metafisico che è un principio idealistico in senso specifico quindi della filosofia di Hegel ma anche di Fichte di Schelling in parte anche di Kant si presta a essere l'aufhebung quindi il superamento dialettico sia del liberalismo che del comunismo perché praticamente ha come scopo la felicità dell'individuo che però individua non nel benessere materiale ma nel benessere spirituale quindi ogni essere umano in quanto incarnazione del logos ha diritto nella società a poter vivere in modo creativo che significa poter avere una propria famiglia poter avere una propria attività lavorativa no se vuole fare l'imprenditore fa l'imprenditore se vuole fare l'impiegato fa l'impiegato e così via e e quindi questa concezione etica politica non è una concezione settoriale regata a un potere economico a una classe perché qua non stiamo parlando della classe dei capitalisti o della classe dei proletari stiamo parlando dell'uomo in generale certo poi bisognerà fare attenzione che coloro che diventeranno imprenditori e questo bisogna però dirlo non è che possono voi a quel punto arrivare a una ricchezza tale da poter poi ad avere poi un potere abbiamo perso Alfonso io continuo perché per la registrazione poi magari rientrerà non è che possono avere un potere economico tale raggiungere un potere economico tale addirittura no da poter diventare più ricchi e più forti degli stati come oggi la finanza quindi la bisogna intervenire nel senso che in questa società lo stato non deve sicuramente come lo stato comunista impossessarsi dell'economia ma sicuramente deve controllare che nessuna forza individuale singola sia degli imprenditori sia anche ovviamente dei sindacati dei lavoratori possa praticamente far venire meno l'armonia sociale quindi questo è il punto fondamentale l'armonia sociale l'armonia sociale il fatto che lo stato rappresenti e dia tutti gli esseri umani e dia la possibilità a ognuno di svolgere una professione e avere una dimensione ovviamente di famiglia di realizzazione e una professione corrispondente a quella che è la propria capacità a quella che è la propria e diciamo che pian piano ci stiamo arrivando nel senso che pian piano certo c'è bisogno di benessere per arrivare a questo questi poi sono calcoli economici che non può fare certi il filosofo filosofo può dire soltanto a quale scopo bisogna tendere bisogna tendere praticamente allo scopo di avere una società in cui ci sia non una classe che domina sulle altre e si impone non è importante che sia la classe dei capitalisti o la classe di proletari cioè è l'imposizione di una classe che deve venire meno ma che ci sia praticamente il bene comune il bene comune e ovviamente questo bene comune deve essere poi organizzato e controllato dallo Stato ma non imposto nel senso che perché sarebbe un'imposizione cioè è chiaro qua poi ci bisogna riflettere come si deve arrivare a questo scopo perché qua stiamo facendo solo per ora un discorso di tipo diciamo teorico sulla base della filosofia della storia non stiamo facendo un discorso politico pratico stiamo facendo un discorso di filosofia della storia quindi venendo pian piano alla conclusione di questa prima parte poi magari la prossima volta continuiamo abbiamo quindi che in sostanza questa società idealistica nel senso in cui la società filosofica a cui viene realizzato il vero e proprio concetto dell'idealismo cioè il logos che è presente dappertutto e presente in noi come creatività è l'unità di bene individuale e bene comune perché è il bene individuale ma che contemporaneamente anche il bene comune non c'è differenza perché non è il bene di una classe e dire che l'individuo è importante l'individuo deve essere felice non significa niente perché tu all'individuo lo puoi bombardare con la pubblicità e fargli credere che è felice comprando la macchina di lusso quindi lo Stato deve educare l'individuo alla vera felicità ma per educare alla vera felicità bisogna avere il concetto della vera felicità dell'etica c'è della creatività, devi nella tua vita fare, avere una vita creativa che cosa ha questa creatività per te? avere una professione, fare l'imprenditore oppure fare un lavoro a metà tempo quale che sia e poi radicare il resto della giornata al tempo libero sono varie forme, diciamo così devi contribuire al bene comune attraverso la tua attività quale che sia senza diventarne schiavo altrimenti saresti infelice ma attraverso la tua attività creativa e ogni persona in sé la creatività questo è il punto fondamentale ogni persona può dare il proprio contributo perché ogni persona contiene in sé ora veniamo all'ultimo punto ecco arriviamo a questi tre punti e poi finiamo per oggi ora quindi questa civiltà filosofico-idearista nel senso vero idealista nel senso vero quindi come abbiamo detto che quindi deve essere il superamento sia del liberalismo sia del comunismo il che significa che del liberalismo mantiene comunque il valore dell'individuo e del comunismo mantiene il valore dello Stato e della società non vanno persi questi due valori però vanno inseriti in una visione generale sintetica che li supera e li integra e è il senso della storia cioè praticamente se il senso della storia qui è la società idealistica, la società filosofica questo è il senso della storia cioè noi oggi stiamo praticamente a un passo da realizzare il senso della storia perché ci stiamo avvicinando abbiamo prima sviluppato il concetto dell'individualismo che è importante perché l'individuo giustamente deve essere felice nel senso giusto poi abbiamo sviluppato il senso del bene comune con il comunismo e ora li dobbiamo mettere insieme con la prossima forma di civiltà la prossima forma di civiltà cioè né quella liberale occidentale né quella comunista cinese sono l'ultima forma di civiltà saranno superate e qui appunto mi riallaccio poi a quella che voi conoscete la mia piramide storica che quindi tende allo Stato mondiale che quindi tutto ciò potrà essere realizzato soltanto nell'ambito di una civiltà mondiale quindi una civiltà unificata una civiltà mondiale unificata quindi questo è un po' diciamo così quel che a mio avviso si sta preparando nella storia perché il compito della filosofia della storia non è dire quel che avviene quello lo dice lo storico ma perché avviene quel che avviene cioè quel che avviene quel che avviene nel mondo perché avviene e in quale direzione va cioè il filosofo della storia cerca di capire il senso di tutto sia ritroso cioè allora noi dobbiamo capire dove stiamo andando il che non significa che ci andremo però che la direzione è quella cioè se questi due alla fine tra di loro sono in contrasto perché alla fine sempre questi due sono in contrasto perché sono i due opposti alla fine il superamento di questa opposizione si può avere solo attraverso la sintesi ed è lì verso quella sintesi ci muoviamo anche se finora nessuno l'ha detto finora nessuno l'ha teorizzato e quel che vorrei fare proprio io è proprio teorizzarlo fare capire che alla fine diciamo non stiamo messi tanto male siamo in una fase critica ma non stiamo messi tanto male perché siamo nella fase in cui stiamo andando nella direzione giusta l'ONU per esempio per dire no anche se ha poco potere però c'è salute va bene allora con questo abbiamo finito io volevo dire quando tu dici questa mi è venuta in mente tante volte nei nostri incontri precedenti l'uno e il tutto l'armonia tra le parti con il tutto allora la finalità la felicità lo scopo che tutti stiano bene ecco il bene comune poi se anche qualcuno sta meglio o di qualcun altro l'importante è che ci sia un monitoraggio di un di una condizione che non che non guasti l'armonia cioè lo Stato ha il compito di monitorare che non ci siano delle sovrapposizioni dei sorpassi degli eccessi in modo tale da creare delle disparità anche da un punto di vista etico cioè se uno si arricchisce sfruttando gli altri quello non va bene quindi il benessere diffuso quindi il bene individuale ciascuno deve stare bene a quel punto tutti stanno bene è automatico certo allora le multinazionali cosa sono intendi cosa sono in questo in questo discorso da questo punto di vista da questo punto di vista non sono concepibili perché sono delle degli enti veramente esageratamente ricche e non si sa come si arricchiscono cioè lì lo sfruttamento è dietro l'angolo certo capisco benissimo è chiaro che noi qua parliamo in un programma come quello che hai appena descritto dovrebbe essere bandita no può essere una multinazionale etica etica ma hanno governano cioè hanno il potere ho capito allora noi parliamo di uno stato noi parliamo anzitutto di uno stato mondiale c'è la dimensione di cui parliamo è quella di uno stato unificato perché se noi abbiamo il mondo liberale e il mondo comunista diciamo così poi esistono gli altri gli altri diciamo forme di stato eccetera a questo punto noi abbiamo due possibilità una è che andiamo verso lo scontro finale la storia normalmente andrebbe verso lo scontro finale no quindi la direzione della storia sarebbe naturalmente normalmente la guerra è uno dei due vince invece in questo caso non è possibile per due motivi uno è quello tecnologico che sappiamo delle armi nucleari ma l'altro è perché praticamente alla fine neanche il comunismo che pure diciamo è la teoria successiva al liberalismo quindi quella che dovrebbe vincere quella più nuova quella che più quella che supera rappresenta veramente gli interessi di tutti perché non rappresenta gli interessi di chi vuole avere una propria attività imprenditoriale no e quindi è costretto a non avere anche se in Cina è diversa quindi bisognerebbe approfondire ora come sta venendo in Cina naturalmente la situazione ma là comunque comanda il partito unico questo è poco ma è sicuro allora a questo punto noi dobbiamo capire che a livello mondiale quindi in questo stato in questa nuova forma di civiltà tutti i poteri tutti i poteri che si comportano in modo non etico può essere la finanza può essere le multinazionali le grandi banche eccetera tutti i poteri vanno prima o poi non combattuti questo è stato l'errore di Marx perché non è che possiamo fare la guerra vanno prima o poi riformati c'è c'è un processo di secoli che deve essere fatto non è che possiamo smantellare una società globale ormai no non è però possiamo se gli uomini vogliono evitare la guerra mondiale nel presupposto perché se non la vogliono evitare possono continuare così se vogliono evitarla devono avviare un processo mondiale di riforma della vita dell'umanità sulla terra che sia adeguato a questa terza fase alla fase della filosofia e che non sia né capitalista né comunista quindi vanno eliminati tutti gli elementi o di capitalismo diciamo efferrato capitalismo estremo capitalismo sfruttatore eccetera come anche gli elementi di comunismo no non è che possiamo tollerare la dittatura non è che possiamo la gente che non può dire la propria opinione eccetera eccetera bisogna quindi che l'umanità si avvii come ha fatto la comunità europea come ha fatto l'Europa si avvii per un processo no un processo che se l'Europa dura un secolo o due secoli nel mondo durerà 500 anni non lo so però bisogna avviare questo processo perché in Europa noi non abbiamo guerre più non abbiamo ancora lo Stato europeo però abbiamo avviato il processo capito l'importante è avviare il processo ora l'ONU già è un punto di partenza capito quindi non è che siamo messi male cioè non siamo messi come 100 anni fa siamo messi meglio di 100 anni fa d'accordo però questa crisi attuale ci deve far capire che corriamo il rischio no di non profittare di 100 anni alla fine di progresso anche se attraverso una guerra mondiale non è che possiamo ricadere nello stesso errore quindi ci vuole un processo di riforme a livello mondiale che pian piano eliminino quegli elementi di sfruttamento presenti sia nel capitalismo che nel comunismo c'è poco da fare e questo deve essere diretto da una comunità di filosofi di scienziati questo poi è un altro tema sul quale parleremo andando avanti diciamo i politici chiaramente non possiamo pensare che i politici facciano una cosa del genere ma non perché siano cattivi perché non ci arrivano capito perché per arrivare a questo c'è bisogno di aver studiato c'è bisogno di aver letto di essersi confrontati con questi pensatori capito certo e quindi c'è adesso una comunità di intellettuali questo ci arriveremo comunque alla fine perché c'è tutto in questo famosi sapiente c'è uno i quali pian piano possano guidare l'umanità nella realizzazione di questa terza fase della storia stiamo parlando di una fase della storia un millennio di millennio noi stiamo parlando capito diciamo il politeismo non so quanti millenni ne imponite il monoteismo questa là e allora diciamo questa è la mia attualmente sto lavorando sto mettendo a punto questo indice per poi pian piano sviluppare vari capitoli è chiaramente in realtà stai sistematizzando tutta una serie di concetti che che in questi tre o quattro anni di frequentazione hai più volte espresso in maniera frammentata cioè io mi sembra di capire che tu stai cercando di riunificare con un senso logico credo in questo libro ho capito appunto tutta questa serie di pensieri che hai sviluppato in questi anni o sbaglio sì è così infatti proprio mi ha fatto bene anche queste ultime settimane che sono stato un po' fermo dal punto di vista delle mie letture delle mie cose perché a volte quando non si va avanti è pure meglio perché diciamo uno può sistemezzare meglio le cose che ha pensato prima ora sto andando avanti un po' soltanto da qualche giorno nel senso che ve lo anticipo così poi ne parleremo la prossima volta che in misura minore in misura più ristretta però un pensiero del genere l'aveva avuto gentile fondando appoggiando Mussolini quale poveretto gentile ovviamente capite il dramma di un filosofo che se poi ha la possibilità veramente nella propria vita di realizzare la filosofia scusate deve collaborare con un politico il problema è che il filosofo è una persona pura può fare errori ma non lo fa in buona fede un politico no quindi il dramma di Gentile sto riflettendo sulla sua persona è che lui aveva capito Gentile questo fatto perché essendo idealista aveva capito il fascismo il fascismo si è presente non parliamo del nazismo che un'altra cosa il fascismo si è presentato così come capace di superare sia il capitalismo che il comunismo però chiaramente a parte che Gentile non aveva interpretato Hegel in modo preciso corretto per vari motivi aveva dato un'interpretazione soggettivistica di Hegel e poi basato sullo stato nazionale quindi la patria e il nazionalismo e tu quindi questo è diciamo l'errore fondamentale però l'intenzione un po' era quella solo che lui come tutti i filosofi infatti per questo non entro dalla politica fanno una brutta fine perché poi è stato pure ucciso poveretti lui voleva fare qualcosa di buono per l'umanità allora ha sbagliato accompagnandosi a Mussolini ma era l'unico cioè non esisteva un movimento unificatore nuovo era quello ma comunque Socrate ha fatto la sua fine tutti i filosofi che fanno qualcosa nella vita pratica fanno una brutta fine perché non è cioè il filosofo deve scrivere poi questo deve essere letto digerito qualche generazione capito penso che solo così possa andare perché se si mette nella vita pratica e deve collaborare con un politico purtroppo farà una brutta fine c'è poco quindi viene strumentalizzato viene strumentalizzato certo facilmente e certo perché lui dice le cose teoriche no? a livello teorico fa dei ragionamenti giusti perché in molti punti Gentile fa dei ragionamenti quel poco che ho letto però mi sembra molto convincente è comunque serio comunque voglio dire partendo da Kant da Hegel dai grandi non improvvisando e però poi diciamo Mussolini dall'altra parte capito diciamo fa delle cose che hanno tutti altri scopi quindi però diciamo l'unica cosa che ora sto facendo di passo avanti rispetto a questa sintesi è quella di capire fino a che punto nel secolo scorso in qualche modo diciamo siamo andati vicini a una perché poi per esempio dove Gentile ha potuto operare da solo nella riforma della scuola là le cose sono andate bene no? quindi dove lui ha potuto a livello l'inciclopedia italiana la Treccani cioè dove lui ha potuto operare nel settore della cultura ma l'ha fatta alla grande perché stiamo parlando di uno comunque ritenuto dai più grandi filosofi del novecento se lo paragoniamo ai ministri della cultura della scuola che abbiamo avuto ultimamente no? capite la differenza io dico c'è il nostro sistema scolastico io ci riflettevo il nostro sistema scolastico ha la base una visione filosofica storia della letteratura storia del latino cioè alla fine questi ragazzi anche se non possono ovviamente imparare tutti ma escono con una visione umanistica eccezionale invece nell'altra scuola se siamo tedeschi abbiamo le materie messe così no? ma come viene chimica fisica eccetera e i programmi messi così invece da noi c'è proprio una struttura culturale c'è una struttura però la stanno un po' distruggendo ultimamente hai sentito Salvini un comizio disse io l'ho ho letto un libro di cui però non si ricordava manco il titolo a scuola i ragazzi dovrebbero leggere questo libro e non studiare i sumeri che studiano a fare i sumeri capito? ma proprio quando ormai la vogliono distruggere sì perché vai nelle mani dei politici che sono spesso ignoranti hanno trovato nella politica un modo per arricchirsi per avere potere per avere soldi che cosa non potrebbero fare in nessun'altra professione il dramma infatti in questo mio libro questa è la parte storica no? poi ci deve essere una parte politica nella quale bisogna allora la politica deve essere riformata cioè non possiamo pensare di avere una civiltà filosofica chiamiamola così non possiamo mondiale perché comunque deve essere mondiale ormai tutto quello che accade accade ormai diventa mondiale non possiamo avere una civiltà mondiale filosofica dominata da persone da persone non ad altezza cioè si faranno la guerra c'è poco da fare cioè non è più possibile il mondo è diventato troppo complicato e troppo complesso per essere gestito da persone senza preparazione ma questo vale per qualsiasi lavoro cioè mettiamo un ospedale metti a capo di un ospedale un infermiere sarà un bravissimo infermiere ma non può essere a capo dell'ospedale perché ci vuole un primario perché ha fatto quegli studi o l'infermiere deve fare quegli studi e poi dopo per dire cioè quindi noi mettiamo a capo della società persone che non sono neanche infermieri cioè la Meloni ha fatto l'alberghiero come può una persona che ha fatto l'alberghiero io non lo so ma non perché se fosse di sinistra sarebbe la stessa cosa non è quello il punto magari può fare cose migliori anche di uno di sinistra ma non potrà mai non potrà mai realizzare il bene nello Stato non lo perché non ha la visione del bene qua Platone ha detto tutto vabbè comunque il problema è che il problema è che il politico fare il politico il politico il mestiere invece bisognerebbe fare politica diciamo su base volontaria secondo me in tal caso diciamo resisterebbero solamente quelli che hanno un certo spessore diciamo no certo una persona diciamo alla Salvini non farebbe mai il politico sarebbero solo i ricchi perché quelli che lo fanno su base volontaria vuol dire che non hanno bisogno di uno stipendio e chi non ha bisogno di uno stipendio è chi ha i soldi quindi tu andresti a mandare al governo solo i ricchi e non è prudente ci devono andare ma sono i ricchi no però anche anche uno che ha studiato allora già anche un impiegato per dire li devi selezionare meglio sì ma un impiegato sicuramente però un impiegato che va in politica senza percepire un compenso cioè continua a fare l'impiegato mentre va in politica non c'è il tempo se deve rinunciare allo stipendio dell'impiego vuol dire che cosa mangia alla fine è vero però noi abbiamo che i nostri politici sono mestiranti cioè fanno i politici per 80 anni non è possibile quella è un'altra cosa ma la mia frase per rispondere alla tua proposta è chiaro che sono d'accordo anche con questo che devono andare e quelli che sanno e vengono pagati perché è giusto che ci sia un compenso un compenso adeguato giusto perché tu non puoi prendere quelle cifre lì per tutta la vita poi i vitalizi così per me è un lavoro comunale quindi per me è un lavoro un professionista però insomma bisogna dare no professionista deve essere un professionista una persona in grado di di aver studiato storia però capito tu fai politico per dieci anni venti anni e entri in certi ingranacci queste cinque stelle è una delle poche cose che secondo me dicevano diciamo sostengono il fatto di non poter fare due mandati perché una volta che tu entri troppo nel sistema di potere negli anni poi non c'è niente da fare tu ti inquini la tua attività viene inquinata perché cominci a conoscere troppa gente troppe troppe persone importanti troppe industriali e quindi ma è per quello che il politico deve essere una persona sapiente una persona pura che lo deve andare a fare per un ideale non per un interesse perché se ci vai con un obiettivo puro e preciso poi puoi conoscere anche tutto il mondo ma non vai a corrompere la tua missione ci vuole una selezione ci vuole praticamente un'università che selezioni ovviamente i cui professori siano persone al di sopra no? cioè persone moralmente che selezioni i giovani non sulla base delle conoscenze ma sulla base oltre che proprio della serietà dell'etica della serietà diciamo è un comp d'altra parte è una professione troppo importante per poterla lasciarla al caso deve essere una scuola Marco una scuola certo devono essere formati certo certo come si fa con il che è scandaloso ma voglio dire se tu per diventare primario devi aver fatto sei anni di medicina più tre di specializzazione più il concorso di stato certo stessa cosa per la politica non devi fare niente cioè è il mestiere più facile del mondo più superficiale sciocco improvvisato del mondo che non è richiesto una preparazione allora una volta che tu hai fatto un percorso così difficile come quello di un primario dieci anni di studio vieni esaminato da decine e decine di persone devi passare una scelta e alla fine non è facile passare tutti cioè non è che tutti si mettono là e fanno questa carriera per dieci anni a studiare io vedo che non che non finiscono neanche medicina tutti quelli che riescono a entrare e già c'è stata una bella selezione per entrare e già c'è stata se facessero una selezione anche per devono avere una preparazione primo generale cioè una preparazione dei classici una formazione poi secondo il ministero a cui aspirano come quello c'ha il reparto medicina che c'ha la chirurgia la dermatologia la cardiologia potranno avere un settore i trasporti la cultura la sanità la difesa anche lì cazzo questi cambiano i ministeri come perché non c'è non avendo una qualifica non avendo non avendo una qualifica non essendo qualificati capito non avendo essendo qualificati si possono mettere dappertutto ma tu capisci che c'è qualcosa che non va certo che c'è qualcosa c'è tutto che non va anzi c'è niente non va niente per questo dico è un miracolo se la società ancora funziona è un miracolo cioè ripete un ospedale messo in mano a gente non preparata se funziona è un miracolo perché ci sono comunque gli infermieri che fanno il proprio dovere i medici che fanno il proprio dovere però i capi diciamo così sono persone non preparate l'unica cosa che c'è l'apparato burocratico va bene che la i ministeri però noi ripeto se poi ci troviamo in situazioni come queste in cui ci troviamo guerre eccetera il motivo è molto semplice l'aveva detto Platone 2500 anni fa perché solo i filosofi possono cioè solo possono governare delle persone che abbiano la visione del bene se uno non ha la visione del bene non può governare allora questa università dovrebbe chiamarsi l'università del bene come vogliamo definirla cioè bene comune certo l'università del bene comune vai là e impari a fare il bene comune e quando ne esci dopo 5 anni 6 anni di studi poi magari hai fatto 2-3 anni di tirocini nelle varie istituzioni dove vieni ugualmente controllato viene ugualmente esaminato eccetera poi ritorni un'altra volta fai un altro esame a 30 anni e allora a quel punto io direi di fare così puoi entrare nella politica e farti votare se poi ti votano perché poi deve essere il popolo a votare però non è che il popolo può votare là uno come Salvini che si mette il rosario ma per dire Salvini può essere anche un altro qualsiasi poi di destra di sinistra capito perché poi la gente lo vota purtroppo anche questo è l'altro problema della democrazia che chi vota non è che poi sia a livello molto superiore a chi viene votato nella maggior parte delle vote e mi dette ma dato che noi siamo capisci che già se i candidati fossero selezionati anche se chi non vota non è preparato comunque deve scegliere tra una rosa che non è proprio bravo perfetto questo è cioè non è una cosa molto difficile però è chiaro che uno facendo una proposta del genere va a portare interessi pesanti perché qua figurati sarebbe una rivolta però bisogna capire che questa non è un'opzione per l'umanità è una necessità cioè ormai è diventata talmente complicata la vita talmente difficile che se noi non facciamo così a livello mondiale non ne usciamo però voglio dire questa è la fase dell'idealismo siamo entrati nella fase della filosofia signori siamo entrati nella fase di Platone dovete fare quello che dice Platone quello che dice Kant quello che dice la comunità europea il manifesto di Ventotene si basa su Kant si basa sulla filosofia di Kant sul cosmopolitismo capito quindi alla fine quando poi si va a sbattere contro il muro come siamo andati con la seconda guerra mondiale e per uscirne dobbiamo far appello alla filosofia io ripeto quello che penso penso che siamo nella fase iniziale della terza del terzo stadio nei primi secoli nei primi quindi diciamo che la terza forma di civiltà ci siamo già dentro questo è chiaro ci siamo già dentro ma è ancora molto giovane molto immatura per questo è accaduto tutto quello che è accaduto nel novecento Mussolini è stato votato Hitler è stato votato capito quindi praticamente è molto le democrazie sono immature il comunismo ugualmente diciamo così immaturo è tutto molto nuovo e non c'è storia e quindi bisogna avere bisogna scrivere questo libro un libro dare delle indicazioni di dove siamo arrivati perché siamo arrivati fin qua e come andare avanti alla fine questo è quel che vorrei fare se diciamo ho la possibilità di farlo questo mi piacerebbe fare uno come siamo arrivati fin qua dove siamo e terzo dove dovremmo andare come ci dovremmo andare quindi questi discorsi che abbiamo fatto una riforma della politica il livello mondiale eccetera piano piano se avremo fortuna se tutto andrà bene nei prossimi anni diciamo pian piano vedremo i vari capitoli di nascere che poi inizia quando inizia a scrivere poi quando una volta che inizia a scrivere poi le cose vengono una polona nel frattempo mentre noi parlavamo Nino ha scritto che oggi non ce la faceva più e quindi allora noi la prossima settimana giovedì sarò purtroppo in viaggio martedì Hagen però fra due settimane va bene va bene siamo in contatto tramite oggi mi è piaciuto molto mi fa piacere abbiamo ripreso la grande interrompi la registrazione senza altro grazie a voi chiaramente del vostro contributo perché mi aiutate tanto grazie a te a maturare queste idee e poi diciamo è tutto nuovo quindi non avrei altrimenti nessuno con cui parlarne e quindi non è qualcosa che si possa già insegnare veramente perché sta nascendo quindi non è un risultato diciamo ma non è tutto nuovo sono le idee che sai le tue idee che stai cercando di veicolare di indirizzare con una certa certo razzicidio quindi alla fine comunque sono è strutto di anni e anni di riflessioni certo le riflessioni comuni che abbiamo condotto nel nostro gruppo e ora è il momento di sintetizzarlo va bene allora per il momento abbiamo finito per oggi riprenditi perché ho visto che ancora è ancora un po' residui di tosse va bene allora vi auguro un buon proseguimento di settimana buona serata ciao abbraccio e noi ci vediamo al più tardi fra due settimane e restiamo in contatto nel gruppo eventualmente nel whatsapp perfetto buona serata ciao ciao allora buona serata buona serata Grazie.